Gruppo WBP l'hai dichiarato, investe in start-up che siano profittevoli. Sì, ma come tutti, non sono WBP. Non conosco aziende che investono in start-up che non sono profittevoli. Quindi in Facebook non l'avreste fatto? No, è diverso, non è quello, perché il punto non è quando tu investi, ma quando un'azienda, una start-up arriva ad avere delle dimensioni tali per cui rappresenta tanti interlocutori da una parte e un potenziale di fatturato importante, ha una sua storia diventa interessante. Noi non siamo nel business di aiutare le aziende a crescere, nel business di aiutare i nostri clienti a crescere attraverso i servizi. Quindi compriamo delle aziende che abbiano una pertenenza e una rilevanza per il nostro business e che abbiano dimostrato nell'arco degli ultimi due, tre, quattro anni di avere una capacità in termini di business di sviluppare fatturato e profitto, mi sembra logico. Dove va la vostra innovazione? Insomma, quali le ultime acquisizioni? Noi a livello internazionale, come tu sai, siamo attivissimi tutti i giorni, tutti i giorni. Devo dire che sono molto contento che Martin Sorrell e tutto il team internazionale già da diversi anni abbia investito pesantemente sui studi ricerche. Noi siamo anche in Italia l'unico gruppo che possiede quattro, forse cinque studi ricerche di primaria importanza e quindi ci permette di avere un accesso ai data, agli analitis molto importante sia per il media che per il digitale. Quindi sicuramente i nostri investimenti anche in Italia si muovono sempre nell'area delle ricerche, del digitale e del media. Non a caso, insomma, proprio al vostro incontro con H-Art, parlando dell'ultimo Austin, si portava ad esempio un Yahoo che si riporta in casa il call center. Arriveremo a questo anche per le agenzie di pubblicità. Non lo so, solo che a noi comincia a essere importante portarci in casa gente che culturalmente, e negraticamente, possa capire questo cambiamento e viverlo. E infatti non a caso, mi sembra che voi come testata, abbiate spesso parlato con Ventimiglia e con Matteo Sarzana come inviati speciali da Austin, come dire cammino dal punto di vista di Human Resources e muovendo bene. Senti, l'ultima domanda e guardiamo un po' anche al vecchio mondo. Insomma, tante cose sono cambiate nell'ambito delle agenzie che furono tradizionali, che ovviamente invece si muovono nel nuovo. Grey United ed ora Red Cell che entra nell'orbita Young Rubicon. Ma noi pensiamo che la Red Cell sia una grandissima agenzia e Alberto De Martino ha fatto un ottimo lavoro sui suoi clienti. Quindi innanzitutto deve mantenere la sua autonomia e indipendenza nella gestione del suo business. E' chiaro che vogliamo dargli la capacità di poter sviluppare una proposta e un supporto per i suoi clienti anche al di là della realtà italiana in cui ha operato fino ad oggi. Quindi sicuramente se questa cosa andrà in porto, credo che Red Cell si potrà collogare, perché no, nel gruppo Young Rubicon, come siamo altre sette agenzie. E acquisizioni italiane? Abbiamo quattro acquisizioni che stiamo discutendo adesso, nelle aree in cui abbiamo prima citato, Non puoi fare no? No. Ha conosciuti che ci faranno dire wow? Mi auguro che dopo le vacanze possiamo parlarne come cosa fatta.